Buonasera a tutti gli abruzzesi che ci seguono dal resto del mondo, da Montreal, da Filadelfia, da Caracas, buone Osarias, perché in streaming Rete 8 varca ogni confine. Sono emozionato perché per me questa telecronaca che condurò con Aurelio Bigi, un cultore della materia, e con un esperto di musica antica, Mauro Colantonio, e come lo è stata per Nando Martellini la finale tra Italia-Germania e Messico 70. La processione del Venerdì Santo per un teatino è la madre di tutti gli eventi. Partiamo da un numero, un numero magico, 842 d.C. E da una scommessa che questa sera rilanciamo attraverso Rete 8, il Cristo morto con il suo miserere di Selecchi può e deve diventare patrimonio culturale dell'UNESCO. Come lo è diventata nel 2019 la perdonanza celestiniana, eventi unici al mondo. Questa sera entreremo in luoghi inaccessibili, racconteremo la processione più antica d'Italia con i suoi simboli, i suoi valori e le sue curiosità. Un eccezionale affresco come lo è la Cappella Sistina. Vero Bigi, qual è l'origine della nostra processione, della processione di Chieti? Molti storici locali ritengono che la nostra processione possa essere datata a 842, come dicevi prima. Questa data viene fuori dal fatto che Pipino, figlio di Carlo Magno, distrusse Chieti e la rase completamente a suolo nell'801. e la città fu ricostruita proprio intorno alla cattedrale. Qui però, permettetemi, stiamo guardando la cappella dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Ecco, vediamo il governatore Giulio Obletter. Ecco sì, Aurelio. Entriamo nell'oratorio. Un grazie infinito va a Giulio Obletter, al quale tra un po' farò una dedica molto speciale. Aurelio, prosegui tu. Che cosa accade nell'oratorio? Ecco, si sono avvicinati all'altare. Dietro all'altare vi è questo scrigno. C'è un marchigegno che permette la discesa della statua del Cristo morto. È una statua del XVII secolo, in legno, dipinto. Ecco, adesso lo vediamo che discende. È il governatore, poche persone che lo aiutano in questa operazione. Da sottolineare, non è che a tutti è dato vedere immagini del genere. Quindi i nostri telespettatori sono più che fortunati. Ecco la statua, di ottima fattura. Vi è da dire anche che questa cappella è l'unica che è rimasta in stile barocco, come abbiamo visto anche prima con tutti gli stucchi dorati, come seguitiamo a vedere ora. Ecco, la statua viene deposto sull'altare. Effettivamente è un momento emozionante. E devo dire che siamo dei privilegiati questa sera. Sì, sì, qui non c'è pubblico. Qui c'è solo una parte dell'Arciconfraternita e Reteotto che sta facendo queste immagini. Mi dicevi di questa statua? Di che anno è? Puoi ripeterlo? Diciassettesimo secolo. Ecco, adesso l'hanno preso e lo portano su, nella parte alta, ecco, attraversano la cripta di San Giustino. Questa cappella che è inserita nell'oratorio dell'Arciconfraternita sta proprio nella cripta, in fondo alla cripta, c'è una porta in vetro con un cancello in ferro. Quello è l'oratorio. Adesso invece sono saliti su al segretariato e il Cristo viene adagiato su questa coltre, che è una coltre bellissima con dei ricami in oro e in argento, che sono stati prelevati da preesistenti velluti dell'Ottocento. Guardate che meraviglia. Ed è veramente oro e argento quel ricamo che vediamo. Devo dire che, soprattutto per Chieti Chieti, sono immagini emozionanti. Si riconoscono volti, oltre a Giulio Bletter, ho visto Giampiero Pellrotti, che è un ex governatore, oltre ad essere un giornalista noto. Tanti volti li chiedi... Sul Cristo viene deposto, viene sistemato questo telo leggerissimo bianco. Verrà fissato per evitare che l'eventuale vento, che questa sera potrebbe essere, possa arrecare dei problemi. Ecco, tutta questa operazione è stata effettuata questa mattina, verso le undici e un quarto in cattedrale. E si ripete da tanti secoli. E si ripete da secoli. Diciamo che... La processione del... Ecco, un'altra immagine. Questa invece è la Madonna addolorata. La Madonna addolorata viene conservata nell'oratorio dell'Arciconfraternita. Normalmente è in vestito cosiddetto di casa. Solo in occasione della processione del venerdì santo viene vestita. E... Adesso la stanno trasportando su. Stava scivolando. E viene vestita non da una persona a caso? Viene vestita dalla priore, dalla moglie del governatore, dalla Sarta... Che vediamo qua nelle immagini. E da pochissime altre persone. La signora Rita Centobeni. Centobeni. E viene, tra l'altro, vestita come effettivamente si vestiva una nobildonna dei tempi che furono. E quindi con più sottane, con più veli. C'è la dottoressa Maria Paola Lupo che fece un articolo qualche anno fa in cui trascriveva e descriveva come era vestita la Madonna. Ecco, abbiamo ancora qualche attimo di tempo per cui possiamo dire tre sottane di cotone dai bordini merlettati, una camiciola bianca, due veli posizionati sul capo di cui uno bianco di lino e uno beige con i bordi di merletto dorato, una pettorina con il colletto di merletto, un abito nero in tessuto di file anch'esso con il bordo di merletto dorato e con la manica al gomito, polsini bianchi, coprimanica neri con i bordi di merletto, cinta bianca di raso, vestito di pizzo nero senza manica donato dalla signora Teresa di Rienzo Bletter, cordone dorato intorno alla cinta, sul petto lo spadino, simbolo del dolore per la morte del figlio Gesù, un velo di pizzo con le stelle dorate e la lettera M ricamata e il velo di sciffon di seta con paillette di oro vero forgiato dalle suore di ogni santo. Questa vestizione viene effettuata il mercoledì mattina. Aurelio, in attesa di un momento magico, ti invito a dare qualche cenno storico della nostra processione. Allora, la processione che noi vediamo oggi è datata 1855. Allora, la prima processione di Chieti aveva tre simboli. Il gonfalone, un Cristo morto, uno scheletro a dimensione umana che reggeva ad una mano la falce e all'altra mano una croce. E così fu fino al 1833. Questo a sottolineare come questa processione fosse sicuramente di origine medievale. 1842, quel numero magico detto all'inizio. Benissimo, benissimo. Solo nel 1833 viene aggiunta la Madonna e anche sulla Madonna poi vedremo via tutta la storia sulla statua della Madonna. 1855, invece, è Raffaele del Ponte al quale fu commissionato, furono commissionati i sette simulacri. Allora, ascolta, adesso le immagini stanno cambiando, stiamo per entrare in un momento magico, uno di quei momenti che regalano un fremito, un'emozione da pelle d'oca. Si chiama Miserere, la musica che rende unica la processione di Chieti, la processione di tutti. Allora, Mauro, Mauro Colantonio, che ho qui accanto ed è un esperto di musica antica, perché si suona il Miserere di Serecchi durante una passione. Il Miserere di Serecchi è un esempio al quale noi teatini siamo molto legati, ma le tradizioni nei paesi cristiani si conservano e la musica rappresenta forse la parte più interessante assieme alle espressioni artistiche che Aurelio ha descritto per noi. E le tradizioni, per capire la nostra tradizione forse occorre spendere qualche parola su altre tradizioni dei paesi cristiani. Sono celebri le processioni dell'Andalusia, del sud della Spagna, sono celebri le processioni di altre regioni d'Italia, in Sardegna e in Liguria. E ogni processione è legata a momenti musicali che sono legati a momenti liturgici. Infatti dobbiamo ricordare che la musica ha sempre una funzione liturgica, non solo di abbellimento, ma ha una funzione legata agli aspetti liturgici della fede. Alcuni esempi proverbiali, leggendari, sono come il celebre Miserere di Allegri, molto noto, che rappresenta una tradizione che è stata modificata nel tempo, quindi molto simile alla nostra. Probabilmente il Miserere di Selecchi veniva prima cantato solo da voci non accompagnate da strumenti come era Prassi nel Settecento. Nel caso del Miserere di Allegri invece, che venne composto per la Cappella Sistina, c'è questo aneddoto molto interessante che ormai è diventato leggenda che Mozart bambino ebbe l'opportunità di ascoltare il Miserere di Allegri e lo trascrisse dopo un solo ascolto di memoria. Questa cosa in realtà poi abbiamo scoperto noi studiosi della materia musicale che non risponde al vero non ci sono prove musicologiche che possono supportare questo. Quindi questa è una tradizione musicale che è stata variata nel tempo ma esistono tradizioni musicali che sono rimaste invariate che sono forse ancora più interessanti è il caso quello del del canto sardo o il canto dei corsi che cantano nella stessa maniera ormai da secoli già dal tredicesimo secolo. Ci sono purtroppo anche tradizioni che sono andate perdute come la tradizione della Cappella del Duomo di Milano è un fatto interessantissimo e diciamo nella tradizione cristiana è molto comune che non venisse utilizzato l'organo il giorno del Venerdì Santo come simbolo appunto di contrizione nel contesto del Duomo di Milano nel tredicesimo secolo come descritto da Gaffurio la musica veniva cantata non per consonanza come ad esempio tipiche le consonanze del 1700 della musica di Selecchi ma per dissonanza per capirci come se due note vicine del pianoforte suonassero sempre questo è quindi l'aspetto più interessante della musica che non è solo un abbellimento di un contesto liturgico ma ha una funzione emotiva l'effetto della dissonanza rappresenta la passione di Cristo rappresenta la sofferenza così come giunge ai nostri orecchi e così come nel corpo di Cristo grazie Mauro grazie adesso naturalmente non è ancora cominciato il nostro celebre miserere Aurelio cosa stiamo ascoltando adesso le musiche che precedono il miserere le dodici hanno prima effettuato la musica di Don Ottavio De Cesare il Teadoriamo Cristo conosciuto localmente come la risposta al miserere perché fino a pochi decenni fa vi era la musica del miserere di Selecchi che veniva cantato a strofe e tra una strofe e l'altra vi era la risposta al miserere che era questo Ti Adoriamo o Cristo di Don Ottavio dopo di questa musica è stata effettuata la musica di Peppino Pezzullo lui lo ha composto nel 2003 O Bona O Bona Iesus una specie di miserere anche questo in dieci strofe e solo dopo queste due musiche invece si è passati proprio al miserere di Selecchi da dire che la nostra processione sin dall'inizio del 1600 ha sempre avuto la musica ecco prima tu mi chiedevi delle origini della nostra processione 842 abbiamo detto è quello che si dice siamo arrivati ti interrompo perché ascoltiamo questo momento che mi chiedevi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono persone che sono 70 anni che suona il miserere e come vediamo nelle prime file ci sono i ragazzi delle scuole medie della città che partecipano e sicuramente seguiteranno a partecipare sempre. Grazie a tutti. 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 Tutti si abbracciano stanchi, contenti, sudati, felici, tanti si inginocchiano davanti a Gesù e baciano i suoi piedi, qualche fratello anziano ha gli occhi rossi, papà mi abbraccia forte, mi chiede se sono stanco e mi dice bravo, rispondo che non sono stanco, solo che non sento più il braccio. Parole belle, ecco qui, vediamo la processione che comincia a uscire dalla cattedrale di San Giustino, tra i tanti simboli ce n'è uno che ha dato a Bici una particolare ispirazione, quel simbolo è l'angelo. Aurelio ha scritto un testo rappresentato pochi giorni fa al teatro Marruccino, ripreso da Reteotto, mandato in onda, sembra la sua una storia pirandelliana, vero Bici? Continua tu. In famiglia si diceva che era importante dove si fermava l'angelo, la statua dell'angelo, lì nel corso di un anno ci sarebbe uscito un morto e mi ricordo che mio nonno era male, era allettato e quindi era premuroso e ansioso di sapere se l'angelo si fermava sotto la finestra sua. E purtroppo quell'anno si fermò sotto la finestra, solo che mia nonna sviò e disse no, no, è andata avanti l'angelo, non ti preoccupare, fatto sta che quell'anno mio nonno morì, ovviamente fu un caso e nulla più. Però ecco, l'ho inserito sicuramente in questo dramma dialettale che mercoledì stando la scuola di recitazione del teatro Marruccino ha voluto mettere in scena. Aurelio, volevo fare un attimino un passo indietro e volevo che tu ci raccontassi un momento particolarmente importante della storia di questa processione, una data particolare, cosa accade nel 1650? Anno Santo 1650. La nostra confraternita del Sacromonte dei Morti allora aderiva ad un'arci confraternita dell'orazione morte di Roma e quest'ultima invitò la nostra confraternita a partecipare all'anno santo con la processione. Per questo evento fu costruita una morte in legno a grandezza naturale che in una mano reggeva un crocifisso e nell'altra una falce. Fu confezionato un nuovo stendardo di Damasco Nero, nuovo a sottolineare che già esisteva e quindi questa processione prima del 1650 si faceva. Fu costruito un catafalco sul quale adagiare una statua con le sembianze di Cristo morto, sul catafalco una coltre di Damasco Nero con il teschio ricamato nei quattro lati. Ebbene, il pellegrinaggio avvenne nei primi giorni dell'ottobre 1650. Vi parteciparono, penso un po', 70 sacerdote ed un migliaio di persone, tra uomini e donne, ovviamente il tutto a piedi. E questo numero elevato si giustifica dal fatto che i confratelli al Sacromonte dei Morti erano tutti coloro che vi aderivano per il suffraggio della propria anima e per avere alla morte un seppellimento cristiano. I fratelli vocali che gestivano la confraternita allora erano 33, previsti proprio dallo statuto, uno per ogni anno di Nostro Signore. Ebbene, questi si avviarono da chiti a piedi, come dicevo prima, il primo giorno raggiunsero Popoli, il secondo l'Aquila, il terzo Rieti e il quarto arrivarono finalmente a Roma e furono accolti dall'arciconfraternita dell'orazione morte di Roma e sfilarono davanti al Papa, Innocenzo X, che volle vederla e sentirla per due volte. Bene, sentirla perché già allora c'era una musica. Sicuramente non era quella di Selecchi, che è del secolo successivo. Però c'era la musica. Ecco, queste sono immagini girate poco fa in attesa del passaggio live, in diretta, davanti alla nostra postazione. Vi devo dire che quest'anno la processione precede una Pasqua bassa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi riproviamo l'emozione della processione notturna. Ed è una processione particolare quella di quest'anno perché l'uscita è nella piazza San Giustino, dove i lavori sono terminati. E vi assicuro per chi non è di Chieti, chi non è mai stato in questa piazza stupenda, bianca, che ricorda quasi il bianco di Trani, che passeggiarci durante il giorno o la sera da un senso di libertà, di qualcosa di vasto, sembra di volare con i piedi per terra. Ma torniamo alla nostra processione e voglio chiedere ad Aurelio qual è il valore, adesso ti chiedo una riflessione da esperto, da autore di testi su questa tradizione ultramillenaria, qual è il valore di questa processione? Quando esce la processione del Cristo morto è come se in questa sfilasse veramente tutta la città con le sue tradizioni, i suoi santi, con la sua storia. Direi di più, con tutti i suoi abitanti di oggi, e ne vediamo tantissimo del pubblico che seguono la processione, e anche di quelle di ieri, che ormai non ci sono più. È come se ogni teatino sfilasse con la propria confraternita del centro storico, delle varie contrade, tutte unite dalle note del miserere. Una musica struggente, forte, diretta al cuore, una fontana di lacrime, come la definì Gabriele D'Annunzio. Ognuno, ricordando quando ancora piccolo, vedeva incuriosito e un po' intimorito gli incappucciati, ecco come leggevi tu a proposito di Giulio Obletter, e si teneva stretto alla propria mamma o al proprio padre. Una processione che ha come momento centrale la passione che si è fatta, dolore, sofferenza, struggende. Il Cristo, torturato e deriso, identifica quell'ingratitudine, la sofferenza umana di sempre, l'eterna lotta del bene contro il male. La Madonna addolorata, ecco il fulcro della processione, che riassume in sé le sofferenze di tutte le mamme del mondo, che perdono il proprio figlio a causa o di malattie, di incidenti, della cattiva compagnia, oggi anche della droga, della criminalità. È qui il centro di tutto, al di là delle confraternite, dei sette simboli di Del Ponde. Tutto diventa semplice preparazione spirituale ed emotiva a quello che è il vero centro della professione. Il Cristo morto che sfila rapido e la Madonna addolorata che lo segue con il fazzoletto bianco tra le mani intriso di lacrime. Scena questa che ci fa tornare alla mente la bella lauda di Jacopone da Todi, la donna del paradiso, che ritrae la Madonna affranta nel vedere ormai moribondo il proprio figlio. Una sofferenza tutta umana e tutta questa scena drammatica è sottolineata dall'immagine di un mare di incappucciati, che vedremo fra poco quando sfilerà davanti alla nostra telecamera, tra il nero e il dorato, e da una colonna sonora che è una colonna d'eccezione, parlo del miserere di Selecchi. Una musica scritta da un teatino doc per essere suonata solo a Chiti, proprio per la processione del venerdì santo, e così voleva il Selecchi. Ma è talmente toccante e bella che ormai è cantata e suonata in tante altre processioni del Cristo morto, e non solo a Bruzzese, ma anche oltre i confini regionali. Ed è impossibile non emozionarsi in questo momento clu. Lì vi è la Chiti, la sua storia, la sofferenza del suo popolo, la sua cristianità, la sua nobiltà d'animo. A dirla con una parola vi è proprio la teatinità. Al vero teatino bastano due note di questa musica, sentita in qualunque parte del mondo, in un qualunque mese dell'anno, per fargli riprovare quel fremito unico che solo il suo miserere e sottolineo suo riesce a trasmettere. Grazie Aurelio, parole bellissime, sentite, profonde. Devo dirvi che questa è una processione, un evento, abbiamo cominciato così la nostra telecronaca, che merita un riconoscimento importante, quello di poter diventare patrimonio culturale e immateriale dell'UNESCO, anche per un altro motivo sostanziale. La processione si è sempre fatta, Chiti, si è sempre fatta anche nei momenti più bui, anche nel 1944, è comunque uscita, è uscita in questa piazza, con un paio di eccezioni durante il Covid, ma la fu inevitabile. Il Covid in quel caso interruppe una processione che neppure la guerra riuscì a fermare. Questa processione ha un percorso che Aurelio adesso ci descriverà, perché ha una forma molto particolare e non potrebbe essere questa la forma. Eh sì, percorre quasi come una grande croce, ecco immaginiamoci da Sant'Agostino che attraversa tutto il Corso Marruccino per arrivare alla Trinità e dall'altro lato che da Piazza Valignani va su via Matteotti fino ad arrivare alle Crocelle. Ecco, una croce che benedice tutta la città. Ed è un percorso che ha subito sicuramente delle variazioni col passare degli anni, anche perché urbanisticamente Chiti era differente, per cui ha dovuto seguire un po' le varie vicissitudini urbanistiche. Comunque attraversava tutti i palazzi nobili della città, perché questa confraternita che poi diventò nel 1856 arci confraternita era formata da nobili, intendendo per nobili anche chi aveva un ruolo importante nell'ambito della città. Successivamente, ecco, quando partì, uscendo qui da Sant'Agostino che stiamo vedendo oggi, girava subito sulla destra nel supportico per prendere la chiesa di Sant'Agostino e via dei crociferi e giungeva fino a Sant'Agostino e poi a Santa Maria. Qui c'era una prima fermata, perché la statua del Cristo morto doveva entrare nel monastero di Santa Maria per essere adorato dalle suore che lì stavano. Poi riprendeva il percorso, faceva all'incontrario tutta via degli Agostiniani, scendeva su via Arnienze e faceva una seconda sosta dove c'è il monastero di Santa Chiara. Anche qui le suore avevano la possibilità di adorare il loro Cristo. Dopodiché arrivava a Sant'Antonio, girava sulla via di San Michele, Largo Carisio, l'attuale via Cesare dell'Hollis, per arrivare sul Corso Marruccino. Arrivava alla Trinità e poi girava su via Vito Colonna, poi risaliva sulla Cattedrale. Oggi è cambiato il percorso, più che altro è invertito il percorso che ho detto prima, ma grosso modo è lo stesso. E quindi il significato di abbracciare l'intera città, di passare sotto i palazzi nobili della città. In quel periodo Chieti aveva oltre 30 famiglie nobili, ecco perché era chiamata la piccola Napoli, fu la prima città che si dotò dell'illuminazione a gas. Ecco, a proposito di illuminazione, quando si parla delle processioni del 1600 e del 1700, erano processioni che si effettuavano di mattina, non si effettuavano di sera per motivi di sicurezza. E solamente sul finire dell'800, che Chieti fu una delle primissime città del regno che si dotò di illuminazione a gas, che la processione avveniva di sera. Ed ecco i lampioni che vediamo oggi, servivano proprio per illuminare la strada che si percorreva in quel periodo. E lungo la strada gli abitanti mettevano dei contenitori con dei profumi, quell'incenso, profumi aromatici dell'ulivo, in maniera tale da... Ecco, per rispetto alla processione stessa. Poi siamo arrivati agli anni, inizio anni 70, in cui si misero i tripodi di ferro. Mi ricordo che i primi anni veniva spenda completamente l'illuminazione pubblica per il corso marruccino, solo che per motivi di sicurezza si preferì diminuire, ma comunque lasciare un po' l'illuminazione pubblica, chiedo scusa, ma il tripode seguitava ad ardere, come seguita ad ardere anche nei nostri tempi. Sfilano i simboli, i personaggi, anche i politici. Abbiamo intravisto il governatore, il presidente della regione appena rieletto, Marco Marsilio. Abbiamo visto il sindaco, abbiamo visto autorità di ogni tipo. Per i cultori della materia della storia teatina, e così, parlando di personaggi come Teresio Cocco, mi viene da dire e da far ricordare ad Aurelio un particolare spostamento che avvenne da Piazza San Giustino nel 1900, correggimi se sbaglio, Aurelio, 19... 32-33, ti riferisci alla pavimentazione? Ma più che altro quando lì c'era un terminal dei bus, dei tram, vennero spostati. Ecco Monsignor Bruno Forte. Aurelio, raccontaci brevemente questo piccolo particolare. Allora, nel 1905 c'è l'inaugurazione del famoso trenino elettrico che prendeva i passeggeri che arrivavano alla stazione ferroviaria e li portavano sopra a Chieti. Il percorso era la prima parte, la via della colonnetta, fin dove c'è la fornace di Muzio, dopodiché si addentrava verso il Tricalle, arrivava sotto Piazza Sant'Anna. Tuttora, se uno vede vicino Piazza Sant'Anna, c'è una costruzione vicino al cimitero dell'ingresso di Porta Sant'Anna, c'è una costruzione di un piano dove si legge Villa Magna. Quella era la stazione ferroviaria di Villa Magna perché per avere un contributo particolare occorreva che unisse almeno due comuni. E allora Chieti e quella era Villa Magna. Poi da lì rifaceva tutta via Arniense, arrivava a San Giustino dove c'era il Capolinea. Negli anni 30 ci fu la ristrutturazione della cattedrale, ottima ristrutturazione fatta da un signore architetto, e ci fu la ripavementazione di Piazza San Giustino, per cui si dovette per un certo numero di anni eliminare, spostare questa stazione ferroviaria che fu portata al Piazza Matteotti. Per cui questo che comportò? Comportò che a Piazza Matteotti c'era una chiesetta piccola dedicata a San Michele che fu abbattuta con l'autorizzazione ovviamente dell'allora arcivescovo per poter permettere di farci questa stazione, benché provvisoria, e quindi il trenino fermava lì. Poi il trenino divenne ormai obsoleto, antieconomico, e per fortuna subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ci furono grossi contributi da parte del Ministero che permisero di asfaltare la colonnetta e di eliminare il trenino elettrico e di sostituirlo nel 1950 con l'attuale filobus. Bene, bene Aurelio. Ecco, queste sono le immagini girate poc'anzi da Antonio D'Ottavio e la processione si sta incamminando verso Corso Marruccino. Alla regia abbiamo Andrea Di Fabio, eccezionali tecnici di Reteotto, come Alberto Capo, che è sotto nella postazione che abbiamo lungo il corso, c'è Danilo Cinquino che è, diciamo, nel cuore pulsante della nostra emittente televisiva regionale. Chi vi parla è Lorenzo Colantonio del Centro e questo è un eccezionale ponte tra Reteotto e il Centro che raccontano l'evento più importante di Chieti. Io, vi confesso, continuo a emozionarmi da 62 anni, soprattutto quando guardo questa immagine, questo Cristo, il nostro Cristo, questa statua a linea con un velo che lo copre. Ricordo che da bambino mi capitava di vedere donne, donne anziane che al passaggio del Cristo piangevano. Molte chiedevano aiuto, si raccomandavano a Cristo. Guardate questa Madonna, questa Madonna dei Sette Dolori, ha un particolare, ha un fazzoletto bianco in mano, Aurelio. Intriso di lacrime, come dicevamo prima, perché è qui il dolore della mamma, di tutte le mamme, per il figlio che muore. Ecco, vedere la gente dai balconi. Adesso ci sono i cellulari, perché da bambino non c'erano cellulari. Però la curiosità è sempre la stessa. Prima hai detto una cosa importantissima, forse è uno di quei pochi eventi in cui la processione, chi sfila, e gli spettatori diventano una sola entità. E così? E vorrei aggiungere un'altra cosa, una particolarità della nostra processione. Oggi abbiamo processioni un po' in tutti i paesi, grandi e piccoli, però altrove ogni confraternita fa la sua processione. Ad esempio, il giovedì santo c'è quella degli incappucciati fatto a Lanciano da. Il venerdì invece c'è un'altra confraternita che organizza la processione. La processione del venerdì santo di Chieti, magistralmente organizzata dall'arci confraternita del Sacromonte e dei Morti da sempre, mette insieme tutte le confraternite della città. E un'altra precisazione, oggi, ma ormai da tempo, Chieti è la città abruzzese che ha il maggior numero di confraternite attive. Confraternite e arci confraternite. E questo termine di arci confraternite non è solamente una dizione per dire sei più bravo. Quando nel 1856 vennero riconosciute queste arci confraternite e mi riferisco al Sacromonte dei Morti ma a quella della Trinità e dei Pellegrini a quella della Cintura e a quella del Santissimo Rosario come contro ecco la confraternita doveva garantire divenendo arci confraternita una carità di 30 ducati in più di quello che faceva abitudinariamente. E consideriamo che allora con 40 ducati ci comprava un appartamentino quindi è un qualcosa di importante. Ecco approfitto io del momento che abbiamo per dire diciamo ai nostri telespettatori che ci seguono da fuori Chieti e che in questo momento la processione sta passando in piazza Valignani a Chieti nota come Lupoz si chiamava Il Pozzo perché c'era realmente un pozzo e al centro non c'era quella vasca che è molto più recente quella fontana c'era un palazzo e accanto c'era appunto questo pozzo si vede da lontano si vedono i due bacchetti dei due maestri d'orchestra che dettano il ritmo il tempo del miserere ai musici e ai cantori Peppino Pezzulo e dietro Loris Medoro vi devo dire che un attimo fa ho visto la moglie di Peppino Pezzulo che sta proprio lì accanto dove si trova lui adesso è come se stesse facendo una fermata dedicandola alla sua moglie e mi fa piacere è bella questa cosa scusa Aurelio io ti interrompo ogni tanto e ti ridò la parola eccolo che meraviglia Peppino Pezzulo che dirige la parte strumentale che è composta di circa 150 persone e poi abbiamo Loris Medoro che circa 200 persone compongono il coro che dirige lui e onestamente vi è da dire che una delle cose che rende unica la nostra processione è proprio questa strugende musica di Saverio Selecchi che nacque all'inizio del 1700 1708 nel rione di Sant'Antonio da un padre sarto e una mamma casalinghe come tutte le donne di quel periodo erano in seguito si trasferì in una casa vicino alla chiesa di Sant'Agata e andò in affitto in una casa proprio della confraternita del Sacromonte dei Morti che aveva a Piano San D'Angelo compose il miserere che aveva una trentina d'anni molti ne conoscono la musica ma non le parole e queste ultime sono tratte dall'invocazione strasiante di David re di Gerusalemme re David si era macchiato di un adulterio con la moglie di Uria e causò un omicidio indiretto e il profeta Natan gli rimprovera le colpe e gli racconta di un vecchio contadino e della sua pecorella rubata da un repotende e David a quel momento commosso nel seguire il racconto all'accusa esplicita del profeta sei tu quell'uomo si rende conto del suo duplice peccato e si prostra a terra e grida miserere mei Deus ecco questo salmo 50 è proprio un grido di sgomento di angoscia inesprimibile ma anche di speranza e di fiducia nella misericordia di Dio grazie Aurelio grazie ecco siamo tornati live la processione sta sfilando lungo corso Marucino concedetemi una battuta fino a qualche giorno fa l'insegna Corso Marucino aveva una lettere in meno la C e allora mi capitava di leggere Orso Marucino ma oggi con enorme piacere ho visto che la C è stata rinsedita e abbiamo il Corso Marucino al di là di queste battute Aurelio adesso ti lascio campo libero parlaci dei simboli delle confraternite raccontaci la processione indiretta finché le note del miserere ci ridaranno quel fremito unico a te la parola Aurelio grazie grazie ecco la prima cosa che vediamo è il gonfalone questo fu confezionato nello stesso periodo in cui Raffaele del Ponte realizzò i simulacri quindi parliamo del 1855 oggi è montato su un'asta di circa 5 metri di altezza una volta era anche più alta ma andava ad interferire con i fili del filobus dal 1950 per cui è stata tagliata una parte dell'asta stessa è la confraternita di San Francesco Caracciolo già di Santa Maria del Tricalle che fa da scorta al gonfalone sin dagli inizi del Seicento e sino alla fine dell'Ottocento subito dopo il gonfalone sfilava uno scheletro in legno che impugnava con una mano un crocifisso e dall'altra una falce capovolta e stava a simboleggiare che la morte era riuscita era stata sconfitta da Cristo Del Ponte nel realizzare i sette trofei che vedremo subito dopo volle come raccontare al popolo la passione di Cristo scrisse una vera e propria Bibbia del popolo come avveniva nel Medioevo nelle chiese con gli affreschi che ripercorrevano la vita di Cristo o di qualche santo e qui Del Ponte racconta l'ultimo periodo della vita di Cristo il periodo della passione e quindi vedremo sfilare l'angelo e poi le lance e così via tutti i simulacri fino alla croce in questa sua opera si impegnò personalmente e anche tanto e si fece aiutare dagli intagliatori Luigi e Paolo Anzellotti e si fece aiutare dal pittore Paolo Aloè e dall'arredatore Adamo Tracan ho voluto ricordare questi nomi perché solitamente si ricorda sempre del ponte però ecco poi si trascurano questi altri che pure hanno dato del loro meglio per la realizzazione dei trofei da dire pure che nel periodo dal 1855 fino alla fine dell'Ottocento questi simulacri venivano portati dalle varie categorie di lavoratori per cui ecco gli scrivani portavano il il volto santo e ogni categoria aveva il suo il suo simbolo ecco Aurelio vediamo il gonfalone devo dire tornando ai tempi d'oggi che e l'ultimo restauro di questi simulacri c'è stato di recente e ad eseguirlo è stato un maestro ebanista teatino Walter Zuccarini figlio a sua volta di artigiano Walter ha anche lavorato per San Pietro in Vaticano e ha come dire curato e riportato a nuovo questi simboli mi incuriosisce Aurelio della vita del ponte un particolare un grande artista morto povero morto povero però per fortuna con degli amici che gli hanno dedicato una bella tomba entrando dall'ingresso principale del cimitero dopo 70-80 metri sulla destra si vede un obelisco tra l'altro è l'unico obelisco che viene nel nostro cimitero monumentale ed è proprio del ponte se posso aggiungere vorrei tanto che qualcuno prendesse un po' a cuore questa tomba che si sta un po' deteriorando quasi sgretolando per restaurare la tomba stessa anche perché penso che sia quanto mai opportuno conservare la memoria di questo grande artista che non si è limitato ovviamente a fare i trofei ma ha fatto anche opere importanti dove che possiamo vederne una mirarne una Santa Chiara la volta di Santa Chiara vi è una sua grande pittura questo l'ha studiato scenografia e pittura a Napoli per cui stiamo parlando di roba buona allora entriamo nella descrizione quasi di da scalica dei simboli dei trofei qui abbiamo l'angelo cosa ci sai dire di questo simbolo l'angelo è un angelo come vedete che è vestito di viola che è il colore proprio della passione ricorda quando scritto nel Vangelo di Luca padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà e gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo una volta dal 1855 al 1892 veniva portato dai confettieri e dagli ottonai prima ecco dicevo come ogni trofeo veniva portato da una categoria di lavoratori fanno da scorta a questo trofeo la confraternita di San Gaetano e quella di San Giuseppe quella di San Gaetano costituitasi prima del 1922 quella di San Giuseppe che era anche detta dei falegnami invece ha una datazione più antica 1744 e dopo questa confraternita vi è un'altra confraternita ecco tra poco ci arriviamo sempre con l'angelo no con un altro simbolo sempre con l'angelo sempre con l'angelo vi è la confraternita delle crocelle la sua costituzione risale agli anni 30 del novecento ma si riaggancia la compagnia della Madonna dei Sette Dolori che fu eretta nel 1685 quindi parliamo più di tre secoli di vita ecco una curiosità il giornalista Antonio Crepas nel quotidiano Stampa Sera del 1940 descriveva la nostra processione e a proposito della confraternita di San Gaetano che abbiamo appena visto scrisse che di questa facevano parte anche diversi bimbi vestiti tutto di rosso con mantellette sciarpa a tracolla che sembravano dei piccoli cardinali si allora può apparire ai giovani a quelli che hanno adesso vent'anni un discorso lontanissimo nel tempo parlare di confraternite di congregazioni eppure si può fare un'analogia con il presente ecco un altro simbolo siamo arrivati alle lance e lasciami fare questa analogia la confraternita era quello che adesso può essere una onlus una associazione che si occupa di welfare però proseguiamo con i simboli le lance i soldati romani vanno a prendere Gesù con lance e torce e si notano anche il sacchetto contenente i 30 denari d'argento chiesti da Giuda ai sacerdoti la daga arma romana per eccellenza le torce e le lance usate dai soldati fornite dai sommi sacerdoti per andare a prendere Gesù e questo simbolo veniva portato dai serpari oggi invece come tutti gli altri simboli realizzati da Del Ponde vengono portate dai circa 75 aggregati all'arci confraternita del Sacromonte dei Morti e fanno da scorta a questo trofeo la congregazione delle crocelle riconoscibili per il colore delle mozzette amaranto l'arci confraternita della Madonna della cintura originata recentemente da quella delle crocelle sono solo donne con sacco nera e mozzetta argentata per quella la riconosceremo subito e l'originale confraternita della cintura fu costituita nel 1708 all'interno della chiesa di Sant'Agostino nel 1856 fu eretta al rango di arci confraternita e prima abbiamo spiegato che significa ciò nel 2004 fu soppressa e ricostituita recentemente nel 2013 conservando il rango di arci confraternita ultima ecco altro simbolo il gallo sì prima del gallo ultima confraternita che fa da scorta è quella di Santa Maria Calvona quindi vedete abbiamo confraternite proprio del centro storico così come abbiamo confraternite nella zona un po' suburbana della città il gallo abbiamo ecco e la mano Aurelio cos'è quella mano? la colonna intanto ricorda dove fu legato Gesù la mano quando una delle guardie romane diede uno schiaffo a Gesù dicendo così rispondi al sommo sacerdote e il gallo quando uno dei servi del sommo sacerdote parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio disse ma non ti ho forse visto con lui nel giardino e Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò i flagelli ricordano quando Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare quindi ecco vi sono tutti i simboli del come dicevo prima questi 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 trofei sono proprio una storia immaginiamoci nel quel periodo la gran parte era analfabeta non leggeva i libri e quindi da questi simulacri poteva ricostruire come avvenne la passione di Cristo una volta questo simbolo veniva portato dai muratori fanno da scorta alla colonna la confraternita di Santa Barbara che porta due stendardi uno di Santa Barbara e l'altra della storica compagnia della Madonna della Croce la prima nacque prima della seconda guerra mondiale fu sciolta e venne ricostituita nel 2013 direi che sta sta per arrivare eccolo qua Aurelio ti confesso che questo è uno dei simboli che a me piace di più questo velo che ritrae il volto santo di Manopello e se siamo fortunati diciamo con la luce riusciamo anche a vedere l'immagine dovrebbe fermarsi ricorda la Veronica quando asciugò il volto a Gesù che rimase impresso sul biancolino il volto è stato dipinto su un tessuto sottilissimo come dicevi tu tenendo a modello proprio il volto santo di Manopello che oggi è salito alle cronache nazionali per essere il più compatibile con la Sacra Sindone la Chiesa ritiene che infatti che il volto santo di Manopello sia proprio quello della Veronica che sino al 1500 e cioè fino a quando non venne costruita l'attuale Basilica di San Pietro era custodito proprio a Roma nella vecchia Basilica di San Pietro e poi si perse per un periodo di tempo e da ultimi accertamenti che hanno fatto sembrerebbe che questa sia proprio quella che stava nella Basilica di San Pietro si devo dire che tanti anni fa ebbi l'occasione di intervistare padre Pfeiffer Gesuita che è praticamente fu il cultore della materia e la persona che cercò di creare questa analogia tra la Veronica e il volto santo di Manopello raccontandone un incredibile viaggio dettato dal caso che ha portato questo simbolo nel nostro Abruzio a Manopello una storia leggendaria leggendaria assolutamente ci si potrebbe fare un film una volta ecco questo simbolo veniva portato dagli scrivani penso non casualmente talmente leggero che lo scrivano almeno poteva avere una minima forza per portare questo tropeo fa da scorta la confraternita della Madonna delle Grazie confraternita che ha delle origini molto antiche anteriore al 1576 dico anteriore al 1576 perché una curiosità delle confraternite di Chieti è che sicuramente nel XII XIII XIV secolo esistevano ma non vi è una documentazione noi la prima documentazione che abbiamo è del 1576 che elenga una processione che venne fatto nell'anno santo e compaiono 4 o 5 confraternite che esistevano però quando sono nate non abbiamo qui documentazione ci giochiamo la vita di Gesù a dadi eh sì la corona la corona ricorda quando i soldati romani intrecciato una corona di spine la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso il mantello di porpora quindi gli venivano davanti e gli dicevano salvere dei giudei e gli davano degli schiaffi quella brocca la brocca certo ricorda nella storia Pilato che visto che il tumulto cresceva sempre più e non condividendo la condanna a morte di Gesù prese dell'acqua e si lavò pubblicamente le mani davanti alla folla proprio quella brocca invece ci ricorda che apparteneva alla famiglia Obletter e si racconta che quando Monsignor Luigi Ruffo Scilla battezzò padre Gabriele Obletter morto nel 1964 in fama di santità utilizzò proprio questa brocca e questo bacile poi vi sono i dadi e la tunica che riportano alla memoria quando i soldati romani si divisero tra loro le vesti di Gesù e sulla sua tunica giocarono a dadi una volta veniva portato dai contadini questo simulacro e fa da scorta questo simbolo la confraternita della Madonna del Freddo che è sorta tra la fine dell'ottocento e inizio del novecento colgo l'occasione di questa domanda che tu mi dici per dire che spesso anzi quasi sempre dovrebbe essere così il colore delle mozzette non sono dei colori casuali scelti dai vari confratelli ma ogni tipo di confraternita ha un suo colore ecco questo celeste quindi dal celesto all'azzurro sono tutte confraternite mariane dedite a confraternite della Madonna quelle rosse sono o del Santissimo Sacramento il Santissimo Sacramento è una confraternita particolare era la confraternita a servizio dei parroci e quindi anche quando si decise di chiudere tutte le confraternite la chiesa fece in maniera che quelle del Santissimo Sacramento fossero esclusi da questa chiusura perché era troppo utile alla parrocchia stessa sta per arrivare la scala che in questo caso ti chiedo una breve descrizione voglio ricordare ai telespettatori che Aurelio è autore di un libro dedicato proprio alla storia delle confraternite le confraternite d'Abruzzo 600 pagine che traccia la storia di tutte le confraternite in Europa perché non è una realtà perché potrebbe sembrare che fosse una realtà dell'Italia meridionale è un libro di testo scolastico Aurelio almeno chi sta in confraternita in una confraternita dovrebbe sapere la storia allora la scala stavamo dicendo ci sono tre chiodi e il martello necessari per crocifiggere Gesù la canna con la spugna che ricorda quando un soldato romano corse a prendere una spugna e imbevuta la di aceto la fissò su di una canna per dare da bere a Gesù la lancia per ricordare quando uno dei soldati gli colpì il costato e subito uscì sangue e acqua la scala col sacchetto ricorda infine Giuseppe Darimatea e Nicodemo che dopo la crocifissione presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con gli oli aromatici come era usanza seppellire tra i giudei allora 1855 1892 veniva portato questo trofeo dai calzolai e dai falegname fa da scorta a questo simbolo l'arci confraternita di Santa Maria di Costantinopoli in Santa Chiara confraternita con origini antiche precedenti al 1576 fu sciolta nel 1781 perché di spirito gesuitico riabilitato qualche anno dopo però per un periodo di tempo campiò continuamente sedi otto sedi nel giro di un secolo il re poi lo elevò al rango di arci confraternita nel 1856 ed ecco che arriva il simbolo dei simboli la croce l'ultimo dei simulacri costruiti da Del Ponde ed è sicuramente la più pesante anzi quella originaria è ancora più pesante perché era tutto di legno pieno adesso è messo invece nell'oratorio dell'arci confraternita è sostituita con questa che è pesante sì ma meno pesante sicuramente di quello precedente è un vero teschio quello in basso eh sì una grande croce con l'iscrizione Inri e alla base un cranio ed un serpente e il gruppo ricorda quando i soldati presero Gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo del cranio detto in ebraico Golgotha Pilato fece quindi comporre una iscrizione e lo fece porre sulla croce e vi era scritto come leggiamo Inri e cioè Gesù Nazareno re dei giudei e la scritta fu messa in ebraico in greco e in latino così come abbiamo visto nelle immagini questo simulacro veniva portato dai fabbri che formavano la congrega di San Deligio nella relativa chiesa ora battuta nei pressi di via Paradiso due sono le confraternite che fanno da scorta la congrega di Maria Santissima del Rosario questa di matrice domenicana fu costituita nel Cinquecento gestì per lungo periodo il conservatorio delle donne pericolanti e pericolati nel zona di Sant'Agata nella chiesetta nel convento di Sant'Agata e nel 1854 fu innalzata al rango di arci confraternita recentemente è stata estinta ma dopo pochi anni ricostituita e poi vi è la confraternita della misericordia che è riconoscibile un po' da tutte le altre perché i confratelli sono vestiti completamente in nero quindi il saio la mozzetta e la buffa ecco quello che noi vediamo che solitamente chiamiamo il cappuccio in realtà è buffo perché il cappuccio dobbiamo intendere quelle di stoffa un po' più rigida come quelle dei maghi delle fate quelli sono i cappuccio queste invece morbide però preferisco chiamarlo cappuccio perché mi è più semplice di dire poi incappucciato piuttosto che imbuffato è vero è vero diciamo che il vero cappuccio prevalentemente nella zona della Spagna o in qualche realtà nel meridione resiste ancora il cappuccio rigido che finisce a punta uno degli ultimi oggetti inseriti in questo rito sacro plurimillenario è appunto il tripode penso che sia uno dei più recenti relativamente recenti quando è che vennero inseriti tu non ancora nascevi invece ero già nato vedi la differenza cioè è accaduto prima del 1980 sì 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 tra fine anni 60 e inizio 70 siamo arrivati al capitolo e all'arcivescovo eccoci qua e inizia la parte centrale del corteo se prima del passaggio della processione vi era un certo chiacchiericcio tra i fedeli al passaggio dei simulacri si è fatto silenzio a breve quando passeranno l'istante di Cristo morto e della Madonna questo silenzio sarà profondo ricco di devozioni l'arcivescovo l'arcivescovo da circa 20 anni escoltato dai cavalieri dell'ordine del santo sepolcro di Gerusalemme che abbiamo visto e vediamo ancora nelle immagini che appaiono sullo schermo del quale è priore della sezione abruzzese e molisana proprio il nostro arcivescovo la storia di questo ordine e la sua attività a favore del santo sepolcro motivano ampiamente la presenza di questi cavalieri sfilano subito dopo i giovani del seminario regionale e il capitolo metropolitano e l'arcivescovo che vediamo benedire i fedeli raccolti ai bordi della strada se è vero che la processione è curata interamente dall'arci confraternita del sacro monte dei morti è anche vero che la presenza dell'intero capitolo metropolitano e dello stesso arcivesco dà alla processione quel valore aggiunto che fa sì che questa processione sia realmente è un'espressione di tradizione di storia ma anche di fede forte e radicata Aurelio stiamo per arrivare ecco l'arcivescovo benedice anche noi e stiamo per arrivare all'arci confraternita all'arci confraternita del sacro monte dei morti a Gesù Cristo che ci passerà davanti ed è un momento che commuove e siamo proprio nel cuore della processione abbiamo visto il labbero dell'arci confraternita portato da un paggio in livria settecentesca è seguita dal governatore dal vice governatore dal cappellano e a seguire vi sono tutti i restanti confratelli che portano le statue del Cristo morto e della Madonna addolorata in occasione della processione sfilano solo i circa cento confratelli e i quasi quattrocento aggregati settantacinque aggregati che portano i simboli venticinque paggi centocinquanta coristi e duecento musici quello che ascoltiamo si chiama effetto Doppler comincia a sentirsi la musica del miserire che si avvicina e devo dire questa è la sensazione che mi accompagna da quando ero bambino e c'è questo miserire che da lontano si avvicina sempre di più cresce ed ecco Cristo con il velo che lo copre osservate gli occhi questo è un momento sacro davvero per tutti c'è chi si fa il segno della croce ed ecco la madonna che esprime il dolore che entrò a far parte della processione nel 1833 viene gelosamente conservata nella sede dell'arciconfraternita e vestita come dicevamo prima il mercoledì santo io penso che in questo momento potremmo anche tacere per permettere ai nostri telespettatori di sentire il miserire che ci passerà davanti ci sfilerà davanti in quel momento noi staremo zitti l'ascolteremo insieme a voi proveremo le stesse emozioni che ciascuno di noi prova da sempre da quando ha visto la prima volta questo spettacolo unico unico vi assicuro al mondo l'arciconfraternita dicevamo partecipa quindi complessivamente con 500 persone altre 500 sono i componenti delle altre 13 confraternite esistenti nella nostra città poi vi sono i seminaristi i cavalieri del santo sepolcro quindi orientativamente possiamo dire che è una processione che ha 1200 partecipanti ma poi vedremo dopo il miserere un corteo enorme di fedeli che seguono la processione stessa eccoci di fedeli Grazie a tutti. 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 I nostri telespettatori dai microfoni di Rete 8 vi auguro una serena Pasqua salutandovi con le parole di un breve racconto di Marcello Luberti, uno dei tanti teatini che vive fuori ma che ogni anno torna per non mancare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.